si fatta? torna dall'inferi hai visto? ciao a tutti ragazzi sono bonnie oggi siamo qui in questo nuovo video delle bedwars qua con cyborg ok ciao morto ok va bene niente ragazzi siamo qui con cyborg per vincere le bedwars siamo qui in duo e ci vediamo dopo la intro ciao ciao let's go BIT LORGEAAAAAAA tu sei morto? no mi sembri no niente un scemo addio amici addio Noi ci dobbiamo lasciare Buonone, buonone Buonone Perché sono ancora? Abbiamo gli acoli piante Ma non sono ancora loro Ah, non sono loro Non penso, però sono lasciato Sono già al centro Di fatto che può cadere A beh, se è un coglione fai Tac, 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 tac Eh, ero sbagliato Sali già, sali, sali Inizio salire Aveva chi dal cazzo No! Io non lo so Non lo so fare, perché non mi tengo Non riesco a fare io Eh, dito 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 Fermo, fermo Beh, sono andata su Udoblite baby Udoblite baby Udoblite baby Udoblite baby Udoblite baby Udoblite baby E' un piccone Fate il piccone Faccio anche il po' Sono da casa loro ucciderli Eccoli qua, eccoli qua Eccoli qua, questo si chiama bambini di merda Un momento Oh scombed Scombed Uccidi Uccidi Sì Non sono, non stava risparmando No, sono cito Ah, le zi Rage quit Per colpa di Bonnie Quanto sai? No, sono qua Oh me, c'è scritto acqua zero No, non sono in acqua Sono in white Ah Ah beh, io ora ci mi sono benissimo Se mi vuoi feitare Scemo Ma sei capino Daboli, sei volato e giù Ci hai fatto di accerenare No, no, adesso Adesso ci andiamo, ci andiamo Ehi baby Ottimo lavoro Mi è stato zero volte Mi è stato zero volte Mi è stato zero volte Sì che sei Sì che sei Sì che sei Sei un master del pdp Ehi One turn Ah No Lo so eh Mi l'ho già seccati due volte Ok Mi metti No Mi sta seccando E' una parola Perché non ne abbiamo ancora una volta più Oh stupendo Guarda Appena le scuole Guarda che dal cuore Però mi stanno facendo dei sghamies doodoo Trai qua qua, vieni veloce, vieni veloce Eh sto arrivando Eeeh 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 Muoviti, muoviti, muoviti Mi sto arrivando Ah tu sei solo Ok vai, partaggimi Dimi Non ti senti Ne hai staat 4 Ah Si Le si dici Ehi Ha quittato Si lui wähnè Vieni qua vieni qua vieni qua Mani 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 Ah no me la faccio adesso Ah si puoi si ž posto io vado ma è certo così aveva allora vengono io vado io vado dai non mi fa la chi parco non esistono io vado dai blu vinci ma avessi letti se ce l'ha un piccone lo chiamerò questo episodio dream team o dobbiamo portare altre verdure dai moviti coglione e non vuole fare fosse una foto mi riprende non so la che fai con il site occhio dietro non c'è la spada non c'è ne va lo uccido di peccone vai apri 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 e se non mi passi davanti let's go piccone alzi di mano tutto giù e ne rimane uno e sopra di andare qua sopra ha fatto un ponte ed è andato dagli altri stanno tornando e io mi dico con la mano con la mano ma hai visto lato ma dai ma è impossibile ma sì ma tu mi dico di mano sei invisibile eh sono mister invisibile tu l'hai visto il mio ultimo video c'era il tipo invisibile c'era un hacker c'era un hacker no e l'ho pillato però usava il mio solo quando era vicino e vabbè ma dopo è arrivato quel coglione la è arrivato con l'invisibile si vabbè ma quando registra il CD è impossibile non è il vato non è via no lo so sto facendo sciocco sta arrivando sta arrivando a noi arrivo io a sapere se il santo è morto si non passa io morto di chi manca il blu andiamo andiamo le due a come lo so qui di blocchi non è un po' non so che io vabbè ne posso fare il cio e noi c'è un buco 4 via wow vieni qua dove sta andando avevo la centro al centro ma dai blu ci vediamo dai blu ci vediamo vieni qua pochettino e vediamo eccoli qua qua sono blu prova a fare i block save non mi servito ok sta andando ai blu non vedi i blu non sono qua ai blu ah li vedo non li vedo io dove sono ok sto arrivando dai blu ok io sono già da l'ora ok tu li straili da lì no li sto distraendo dal porto principale vai buttati 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 ciao non ti lasciare questo qua è un coglione faccio faccio voglio il letto lo voglio distruggere io se sei scasi let's go ma esattamente cosa è sta roba lui cos'è hitman è hitman ah faccio ma è si è esploso quanta roba c'è alcuna via power 1 panciuno arco a caso invisibili 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 invisibilità no la passa arrivando a noi arrivando a me trolla 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 le mani si guarda hey man hey man ho fatto oh lo trollo lo trollo lo tiro giù con le mani vai no l'abbiamo vinta l'abbiamo vinta la bad duor se mi niente ragazzi video io direi che un paio di like ci vorrebbero quindi se volete la doppia prospettiva con cyborg nelle prossime bad duor e con lui lasciate un paio di like e anche con lui e dov'è penny non c'è pericolo c'è e c'è trump se lo volete con trump anche ci vediamo con with trump e cyborg e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ok quitta la questa